Io ho questa entrata oggi Capito? Guarda il braccio Pito Amaro della Lombardia Dovrei farla io questa entrata Perché oggi siamo Siamo nel nuovo attico Appena comprato in Duomo Di Danie D'Addetta Finalmente ha sbarcato il Lunario Questa è casa mia Lo sanno, l'hanno già vista Eh ma poche volte Quindi magari c'è gente nuova che non lo sa Ragazzi questa è una parte di casa mia Il salotto è qua Bravo, specifica una parte 140 metri casi 105 metri quadrati 110 più Più mirtillo E c'è questo cagnolino Guarda che fa il moonwalk qua sopra No che scivoli Vieni qua Più 30 di balcone Il balcone è più grande della casa Però è inutilizzabile Beato te, sei inutilizzabile No dico la maggior parte del balcone è inutile Tutto il giorno prendere il sole Chi è che va in balcone? Ecco devo fare i 100 metri lì Su, su cui Vabbè Comunque Questo video Non ti ho neanche detto che video è Non so niente Mi ha detto Proviamo Le novità Del supermercato Novità Del supermercato Sì In che senso? Del supermercato Nel senso che Io ho detto Allora questo video L'hanno già fatto in altre persone Però noi forse lo faremo meglio Forse Mettiamo le mani avanti Valutatelo voi qui sotto nei commenti In cosa consiste? Andare al supermercato E prendere le cose nuove Cioè appena uscite sul mercato Che ne so Ti spoiler Ho preso i kinderini Sai che parlavano tutti sti kinderini E non ho Tu proprio Tu guardi pomeriggio 5 E Reazione a catena E E quindi Di ogni cosa Quella che ho trovato ovviamente Ho preso la novità Ci sono 10 novità Che andremo ad assaggiare Ok Ma quindi sono tutte Passiamo il termine schifette Cioè robe golose Non tutte Cioè qualcosa no Salutare Ciao A casa tu fai un altro mood Un'altra atmosfera Cioè Non so Sei diverso Sei più simpatico Ti destabilizza un po' questa cosa Quindi io direi di iniziare Ovviamente ho già specificato Sai che ci sono i leoni da tastiera Che ci insultano E perché? No perché magari alcune cose Non sono proprio delle novità Nel senso io l'ho visto Ho detto Cazzo questa roba non l'ho mai provata Ma magari è uscita 5 mesi fa Però Per noi è una novità Esatto Adesso vado a prenderle E iniziamo Ti aspetto Eh Eccolo Vado a Sofficini alla diavola Belli Cereali Kikka E il latte Sì Gocciole caramello Questa le mangio con latte io Goccia dal cocco Queste qua assieme le proviamo Ringo al caramello Limited edition Cazzo è Questo sotto forma di cioccolato così? Sì l'ho mangiato Io mai Non lo preso Ma tipo 5 anni fa Ah ok Bello Biscotti nesquik Cazzo è sta roba Babybel proteici Fammolo subito mangiare uno Fermo Fermati I kinderini Appena usciti questi Questi no A parte gli scherzi Ho visto un video di un palestrato Quelli assaggiava Pepsi Lime Lime Senza zero zucche Zero zucche Questa volta sono curioso di assaggiarne uno subito Fermati Belli però dai ste robe Allora Iniziamo Ovviamente non le spoileriamo tutte subito assieme Se no non c'è gusto Danielson Vai Iniziamo con l'unica cosa da congelatore Se no mi si scioglie e mi si macchia il tappeto Non male Casa tua sembra le Bahamas Questi Qualcosa di fresco Mai assaggiati? Sì Mai visti neanche Io li avevo visti Dove? Quindi so che c'è un po' di Sono da un po' di tempo al supermercato Però non li ho mai assaggiati Kinder chocolate ice cream Secondo te come sono? Ovviamente buoni Perché la kinder Se no non sarebbe miliardaria Non lo so A cui gelati A me ho mangiato un gelato della kinder Sì Il cono Quello Con la parte dura sopra Il cono con la parte dura Il cono della kinder E io non ho mai Vediamo Ovviamente dadà Dobbiamo valutarli Se ci piacciono Non ci piacciono Vediamo Sai? Ti avevo svelato 3 2 1 No Il tuo si sciola 3, 2, 1 Vabbè prendilo così dai Non penso sia completamente sciolto Guarda lì Oh Esteticamente a me piacciono Sembrano delle gocce quasi Andiamo? Andiamo Viva 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 dadà Non altro che mangiare qua Vai Dai Dai Insomma Ma tua mamma è insomma Prova la parte bianca Ma come fanno a fare ste cose È tanto dolce È tutto sciolto È anche mio un po' È tanto dolce Però dadà Spacca questo È buono Veramente buono Questo Beati i ragazzi Che fanno la merenda con questo Questo è clamoroso Oppure il post cena Prima di andare a dormire Gelatino Beati voi ragazzi Sfruttate questi anni Perché poi inizierete a mangiare proteico Sarà tutta una scorreggia Una bestemmia Vero Comunque Mi avevo iniziato bene Buono Io gli do Eh così tanto Facendo 7 e mezzo Io 5 e mezzo Dai Devo guardare tutto Il fatto che mi sia sciolto in mano Ma quella è colpa mia Che mi sono dimenticato Di metterlo in congelatore 7 7 e più Guarda Te lo tiro in testa E ti faccio il ciuffo Mesciato di cioccolato bianco Come dal gioglio Sì 7 e mezzo tu Io 7 e mezzo Io 7 e più 7 e più Hai un fazzoletto per piacere No Per piacere Gli ho finiti E per Halloween ovviamente Ho la carta di Halloween Tu sei Non si Cioè c'è queste cose Il dettaglio L'ospite Viene trattato e cullato Tu sei ridicolo Tutte queste cazzate Tutte le feste San Valentino Tutta la casa piena di cuore Sì va bene Ciao Vai 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 Ridicolo Ridicolo San Valentino Proprio di cuore Pulisci un poco al tavolo Quello vedo sporco No sì tu sei Tu sei imbarazzante Sei venuto qua a casa mia Per pulire il tavolo Allora Prossimo Vai Decido io No il primo l'ho deciso io Vai tu Salato o dolce? È una cosa salata No Non neanche me la ricordo Così subito Secondo me questa è la vostra finale Ma che mostro finale Ce ne sono tanti altri mostri finali Babybel proteici Da quant'è che non mangi bello? Babybel non lo mangio Da quando ho Circa 7-8 anni Veramente? No forse io e te l'abbiamo mangiato in un video Il Babybel Non mi ricordo Però io mi ricordo che Sono andato al supermercato E una volta ho detto No devo riprovarlo Perché una volta a me piaceva un sacco Li portavo come merenda a scuola questi Pensa a te Ti Da 15 anni che non li mangio E secondo te cosa cambia? Perché poi vedi che sono neri questi Quelli normali sono No Sono uguali No all'esterno intendo Ah L'esterno che colore era? Rosso Anche l'esterno rosso era No ma era già così in teoria Senza la carta Ah è vero Giusto? No Non mi ricordo Questi sono proteici Hanno E mi da nulla secondo me Guarda Dada Ad alto contenuto di proteine Mini Babybel Fatto con il 98% di latte 5 grammi per ogni Babybel? No Sì 5,2 grammi di proteine Quindi 5 grammi su 20 di Babybel Tanto? Un quarto Tanto Il fatto che si aprano così Ma il signor Babybel è ricco? Va Mi si è pure rotto Mi sa di sì Eh Babybel sì Viva Tutto devi mangiarlo Sì anche il rosso Ah Ricorda il Babybel normale Ma secondo me ha molto meno gusto Dici? Perché è proteico A me piace Anche a me Dammi gli altri 2-3 Buono eh Ti senti anche un po' più muscoloso? Sì Vero La senti la differenza Cioè proprio ti dà subito un effetto pump Che è Sì incredibile È come un Come una sostanza stupefacente questa È come un po' di trembolone Quello che prendi tu ogni giorno al mattino Cioè Il caffè Oh Mini Mini Babybel proteici Approvati Voto Anche questo Sette e mezzo Sì Sette e più Anch'io Sette e più Che voto è? La scuola non ti dà un sette e più? A te Tu hai mai preso un sette e più? Pulisci bene qua per favore Che sporco Andiamo avanti amici Non ci fermiamo anche perché ci sono dieci prodotti da assaggiare Dimmi quando vuoi bere perché c'è anche una Un Voglio ancora qualcosa di Ok Adesso Dadda Passiamo A Questi Questi ti giuro che non li ho mai visti Secondo me sono di adesso perché sono una limited edition Ringo Ringo Caramello Caramello salato Secondo te? Incredibili Caramello salato però è salato eh Ma come sono? Va bene Abbiamo uno Sì uno Vai Vediamo questi Fioi Fermo Dai Non falle illusare come era Sono strani Sono piccolissimi Senti l'odore L'odore è incredibile ragazzi Ti piace così tanto? E te il caramello? A te no Però è Lo strato non è un po' È pochissimo Pochissimo Potremmo aumentarlo un po' di più Sì Vabbè Viva Dadda Senti la fine però Senti la fine come ti sale Questo qua è di canaracciuolo Sai che ti sale alla fine Non il massimo No anche perché non c'è niente in mezzo C'è troppo poco in mezzo Il biscotto è burroso Sì burroso il biscotto Alla fine sale un po' Il salato del caramello Ma nulla di più Potevano impegnarsi molto Con il budget che hanno a disposizione Più che altro Avrebbero potuto mettere Molto più ripieno Molto più farcia Sì Sì Se fosse stato così veramente Sono rimasto un po' deluso da questi Sì Sinceramente Se ne hai spacciati come Sei Dadda No? O sei più O sei meno No io sei Sì Poi questo è proprio una roba da sei Da sei Nulla di entusiasmante Ma neanche che fa schifo No? Siamo d'accordo Andiamo avanti Il prossimo Dadda Allora questa io non l'ho mai Cioè questa so che Sapevo che dentro di me Che non era proprio una novità Però io in questa forma Non l'ho mai assaggiata Ok Io l'ho già assaggiata Eh Allora non mi ricordo se questo gusto O l'altro Perché ci sono tutti i colori Ah i qua Invece io ne avevo due Cioè rosso, blu, giallo Blu e giallo c'erano Ho preso quello giallo Perché mi ricordo che le Smarties gialle Teoricamente sono quelle più buone Bravo Quindi Io non ho mai assaggiato le Smarties Sotto forma di cioccolato Esisterà da Da quando sei nato sta roba Ma non me ne frega un cazzo È l'unica forse non novità Questo è incredibile Sì Guarda ti Riccardo È così buono Sì sì Ma poi è enorme Quanto pesa? 170 grammi Vai Prendo questo e lo divido a metà Bravo Guarda lì Ecciso Viva Madonna Madonna è clamorosa sta roba Questa è la cosa più buona Che abbiamo mangiato finora Ti do È che io abbia mai mangiato nella mia vita Nella tua vita È bello perché ci sono proprio le Smarties incastrate Nel cioccolato Fuso Dai quanto è buono Prendi l'altro quadrato dai Buono questo Quando è buono bisogna riasseggiare Oh Hai perso la forza dad È proprio buona sta roba Non so se siete d'accordo ragazzi Ma questo è il gusto migliore delle Smarties Anzi Visto che stiamo facendo il video delle novità Se ci è sfuggito qualcosa Sicuramente è così Scrivetecelo Scrivetecelo nei commenti Che magari esce un altro episodio Sulle novità del supermercato Questo Voto 8 e mezzo 8 e mezzo 9 Quasi 9 Quasi Eh per forza 9 meno meno Eh 9 meno meno Mi soffio il lasso perché sono più Tappato di Fai quello che vuoi Fai come fosse a casa tua No Sto dicendo perché se parti poi No Lascialo Gabri Fai un'esplosione Adesso Apriamo proprio un altro capitolo Della nostra vita Perché tutte queste cose qui Vanno assaggiate con latte Bello Però sono incredibili Sono biscotti Cereali Ma non biscotti Cereali qualsiasi Questi? Nuovi eh Qua c'è scritto Non potete dirci un cazzo Nuovi Cereali KitKat Poi Biscotti Nesquik Era ora che li facessero C'è scritto new anche qua Non rompete New c'è scritto Ma non è vero E Queste io non le ho mai provate Non so tu Gocciole Al caramello E gocciole Al cocco Saranno anche queste uscite Da un po' di tempo Ma io non le ho mai provate Tu Figurati se abbiamo mai provato Ste robe Prendo il latte Per forza Ce l'ho parzialmente scremato Io eh però Non so se ti piace Anch'io Meglio Oh dammi una bella tazza Che devo pucciare eh Devo tornare teenager Occhio che è bollente qua eh Perché è appena finito la lavastoviglia eh Appena finita la lavastoviglia Beh non mi puoi dare una tazza più bella ma Ma che cazzo vuoi Sei tu questo Tu sei Ma come sei tu veramente Come io Zio porco Ma è una donna Ma se è un ciuffo biondo Gli occhiali Sì ma è una donna Dai è Riccardo questo È una donna Ma non si vede Ma cosa vuol dire una donna Si vede che è una femmina Mi dite se non è Riccardo questo Sì Il ciuffo biondo Gli occhiali tondi Non è la tazza nera scusami Sì tranquillo La tazza nera è arrivata No però Una fresca non ce l'hai Diventa caldo il latte Eh diventa caldo Di più di più Con cosa iniziamo Quello che vuoi Cosa vuoi Io metterai tutto insieme Ma che tutto insieme Quelli li inzuppi Quelli li metti dentro No anche quelli li inzuppi Tutto metto dentro Ce l'hai due cucchiaini per piacere Cucchiaini ce li ho neri Va bene Sì Uno Ah veramente Dove li hai presi questi Ridicolo Parco Diaz Allora Da Camelot Apri KitKat KitKat Sì dai Ecco Così si fa Sì Con il dito Una volta che gli dai l'apertura Quella principale Poi tramite il vuoto d'aria Si apre tutto Indipendentemente Dal sforzo che usi Guarda che benessere qua Dandà Dovevo spaccarlo Riccardo Pronto? Non sono di niente Come no? Fantastica sanno Dai metti dentro Basta Quanti me ne metti Mettili adesso Bastardo Mettili Comunque Non c'è dubbio Prima va al latte Poi cereali Non il contrario C'è chi fa il contrario Perché sono nati male Tu dici Eh Oh Viva Viva auguri Cereali È una farsa Che bugiardi che siete Cioè KitKat dovrebbe sapere di KitKat Se no che cereali KitKat sono A parte che io non vado matto di cereali Mai mangiati in vita mia Non mi sono mai piaciuti Ma al di là di quello Non sa di KitKat Finiscili Sì sì tranquillo Adesso mangio tutta La merenda del pomeriggio questa Andiamo di Definiti Andiamo di Proviamo prima questi Ma gli dici a pucciarle Sì Ma non è pieno Biscotti Nesquik Metti via questi Vediamo Questi già hanno l'odore Non usa Nella scatola Senti Non sa di niente Nien questi No niente No questi non sono proprio Proprio di niente Vediamo Vediamo Magari sono buoni Però al gusto Gli pucciamo Ovviamente Ah proprio dentro È tutto Io faccio come Faceva lo zio lino Così Chilli di biscotti Chilli di biscotti Anche mia nonna con la minestra Chilli di biscotti Pacciotto e via Normali Non male Gusto buono Piacevole Buoni Buoni no? Sì Ricordano un po' le nesquik Poco Cioccolato E basta no? Tu sai che io andrei avanti così Sì però se devo prendere dei biscotti Non prendo questi Io ho l'azione di mettere Giù Mirti Giù Basta cercare cibo No tanto c'è questi Ma tu mangio Questa cosa qui andrei avanti ora io Io no una volta sì Mi stomaca dopo un po' No no Poi non lo faccio talmente da tanto Proviamo le Che quant'è che non pucci? Le gocciole Eh tantissimo Le gocciole al cocco Attenzione Come no Non sento il cocco Si sente tantissimo No Si vede che il tuo naso è otturato dalla droga Tu sei una droga Buoni dai come fai a non sentire il cocco? Senti bene Sento cioccolato Io mi preoccuperei Perché? Sai di cocco anche il singolo biscotto Non lo sento Vediamo Com'è? Sì o no? Eh? Buone A parte che le gocciole secondo me sono buonissime in generale Anche quelle classiche No? Si sente il cocco un sacco eh Eh si sente Però non mi piacciono Cioè non mi fanno impazzire No scusami A me si piacciono Senti quelle normali? Non mi ricordo quelle normali È troppo tempo che non le mangio Sério? Madonna sai è tantissimo che non mangio biscotti Che cazzo Qua sento il cocco Eh Adesso è arrivato Si sente qui si sente molto di più Anusa qui Non sente niente No no si sente il cocco Dai mettila perché ti ha pagato cocciole Magari guarda Ora questi sono talmente buoni che ne puccio due Oh stai facendo schifo eh Riccardo Cioè te lo dico Eh allora quando lo mangio mi rompo i coglioni Incredibile il caramello Buono questo eh Quindi ricapitolando KitKat Voto Sei Sei Nesquik voto Sei e mezzo Un po' di più Mirti fermo Gocciole Sei e mezzo solo perché A me non piace il gusto Di quali? Di cocco Ok io ho sette Però si sente E queste sette Sette e sette e mezzo io Sette e sette e mezzo Ma non è finita qui Infatti Allora Che cazzo vuoi? Mi fallo un attimo Grazie Grazie per le rose Grazie per il follo Grazie per il Così fa no? Tu sei proprio succume di TikTok Tu sei succume di TikTok Non sto mai su TikTok No no Brrr Stavi facendo Eh perché l'ho vista e mi ricordo come fa Cioè non è che sto lì a guardarla Tra una settimana ti trovo a fare live così a te Allora Dadà Mancano tre cose Ma non sono tre cose Qualsiasi Perché è un pasto completo Come un pasto completo? Cos'è? Abbiamo una cosa salata Che mi piace tantissimo Però questi Mai mangiati Novità Quindi Sofficini Diavola Saranno piccanti Mai provati Incredibili Poi Abbiamo Da accompagnamento Pepsi Al gusto Lime Zero zuccheri Questo ci sta E alla fine E alla fine Avremo il mostro finale Ovvero i kinderini Come dolcetto Esatto Come dolcetto Questi li prepariamo in microonde Non scassate le palle Anche se non andrebbero preparati così No 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 C'è scritto anche in microonde Sicuro Guarda qua No Forno Padella O tostapane Tostapane Butta la tostapane No È friggitrice ad aria Dobbiamo comprarla Eh sì Ma io li metto in microonde Perché non me ne frega niente Che li fai così da quando sei piccolo Esatto Perché anche da piccolo eri un 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 grande uomo ero Un pigro Io cucinavo ragazzi I wustel Formaggio e microonde E quando li tiravo fuori erano così Sai quando si gonfiano Cramerosi Però Wustel e formaggio buonissimi Da tanto che non li mangio Era una vita migliore forse quella Schimicavi così? No Anche proprio Io mi ricordo che Quando ci siamo conosciuti Eh Che venivo a casa tua Aprivo sopra Stai esplodendo Oh Aprivi sopra Già pronti? Eh quasi Dai Ti ho detto io Perché Vedi che non c'è tempo Cioè Ti immagini accendere il forno Mettere l'info Cioè Che spreco di tempo è Mi ricordo quando venivo a casa tua Che aprivo la dispensa È pieno di cazzate Merendine Robi Tutto c'era Mia nonna mi riempiva Non so perché Me ne regalava da portare a casa Eh ci sta Troppo 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 Spuntino Sì lo spuntino No metà dai È grosso eh Non c'è più Quella roba lì che se fai così sorride Come sorride? Fermo la pubblicità Facevano così Usciva tutto il coso Che sorrideva Solo se lo cucini in forno Così piange Odore sa degli altri sofficini Sa di quello di pomodoro Io no Eh un po' sì Ma è che sa di pomodoro Sa di salsiccia Dolce Sì no Ripieno di pomodoro Salame piccante E mozzarella Buono? Normale Non ti piace? No Manca un po' di sale Secondo me Nel condimento Va bene adesso non è che è così caldo Tu hai fatto Normale no? Non è neanche piccante O non viene esaltato il sapore Perché lo cucinate così Un minuto in microonde Può essere Probabile Piano eh Ma che piano Dai un po' a tigli No Non mi convincono questi Sei ma proprio Per il rotto della cuffia Gli altri quando li facevi così Ti convincevano? Dai Te lo giuro Però proviamo Questa Pepsi Al lime Vai Apri 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 Adesso Fai il rumore Fai Grazie Vai pirla Clamorosa è questa eh Il calda Il calda non sappiamo mai L'avere senza Non sapremo Vabbè non è neanche troppo caldo Dai No ci sta Ma sai che Buona Al lime L'avevo già assaggiata La Pepsi twist al lime Mi ricordo il mojito analcolico Che i miei mi facciano bere Da piccolo Qui c'è Perché io insistevo Che volevo il mojito Perché sai che Vogliamo sembrare grandi Ovviamente me lo facevano analcolico E sapevo di questo Non è male Sette Tu Tu Sei in mezzo Eh Più basso Tu hai le papille gustative Che sono andata a puttane Te lo dico io Te lo dico io Ragazzi Mostro finale Avete rotto le palle Con questi kinderini Sui social Non solo a me Ma in generale Tutti che assaggiano Sti kinderini Ok Adesso avrete La nostra opinione Su questi kinderini Attenzione Kinderini Sono della kinder Ovviamente Ma sono dei biscotti Cosa sono? Sì Biscotti Forse volevano replicare Il successo dei Nutella Biscuits Sì Io Replicabile Esatto Odore buono Vediamo E anche come sono Ah così Guarda Sono grandi Sono proprio per bambini questi Per te Proviamo Cosa è sta roba Ma è strana proprio la consistenza C'è un leggero liquido all'interno Sì Sotto è duro Vero? Non sembra neanche un prodotto kinder Di solito loro ti stupiscono con il gusto incredibile del cioccolato al latte Questo è normale Non mi piace tanto Finissimo No col cazzo non mi piace Sei Non ti piace sei Non voglio dare cinque Se non ti piace Vabbè non mi piace non è buono come Io non gli do la sufficiente Eh Per me Suggettivamente parlando Quanto? Cinque e mezzo Non so Non mi fa impazzire Sei meno io Eh Veramente Deludenti Poi magari frucciati nel latte cambia gusto No un cambio a cazzo dai Deludenti veramente Però quando stungiavi in Nutella Biscuits No Vabbè L'hier non sono Vabbè A parte che c'era Nutella Quindi Però un'altra cosa Però Però Potevate impegnarvi Cinque e mezzo Barra sei dai Sei meno Ragazzi Abbiamo provato Dieci novità del supermercato Come vi abbiamo detto prima Scriveteci C'è un'altra qui sotto nei commenti Noi prenderemo spunto E andremo a comprare al supermercato Voto Classifica Top 3 Gli M&M's Quello da cioccolato lì Quello incredibile Il gelato della Kinder Il primo Mi è piaciuto anche Ah secondo Quello metti O terzo E secondo E secondo metterei Non mi ricordo neanche Che cazzo abbiamo mangiato Secondo cosa metteresti No io non ce l'ho troppo diverso Dalla terza La prima Gli ultimi che abbiamo mangiato Secondo i sofficini Dai Pirla Sto facendo una classifica Top horror Cosa metteresti Il M&M's M&M's Secondo Le gocciole del caramello Gocciole del caramello Ci possono stare E terzo Il gelato Per forza Perché I KitKat Erano Normali Tutti gli altri Sono gusti normalissimi Ed è solo il marchio Che dice Ho fatto questo Ma se poi non sa Di quello per il quale Siete diventati famosi Non va assolutamente Bene Sono d'accordo Ragazzi Noi vi salutiamo Vi ringraziamo Daniele Grazie a te Ci vediamo prestissimo Come sempre Guarda che giro largo Che devi fare sto giro Con altrettanti contenuti Adios E hasta luego